Facendoti questa domanda, com'è stato a migrare per 90 minuti una partita così di alto di tempo? È stato veramente bello, perché già venivamo da una buona partita fatta con il Pesaro, quindi abbiamo continuato la nostra scia, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, però dispiace di aver preso il gol proprio allo scadere della partita. È stato sostanzialmente impegnato solo su due uscite alte nel secondo tempo e tra l'altro in inferiorità non eriva, per il resto un grande pescara, poi sul doll non si poteva fare nulla se non magari guardare l'orloggio e far passare, come diceva Urede, un po' il tempo di recupero. Sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco, forse qualche calcio d'angolo, poi noi in campo non lo sapevamo che era passato il tempo, quindi prendere colpo proprio lo scadere e sapere che era passato di più di quello che aveva dato l'arbitro di recupero è un po' di spiace. Dispiace, però bisogna tornare a casa con delle certezze importanti che questa partita ha regalato, forse la prima vera partita in ottica play-off giocata da grande squadra del pescara, sei d'accordo? Sì, assolutamente, abbiamo concesso poco contro il Modena, che è una grande squadra, non è stato tra le prime, sicuramente dobbiamo avere consapevolezza che anche noi siamo una squadra forte, quindi secondo me potremmo continuare così molto bene. Grazie anche alla portiera e sorriso.